Buongiorno ragazzi da Fosser Pagame, oggi vediamo tra tutte le pagelle di questo Milan disastroso Milan è che si fa sabotaggio da solo, Milan è che ha giocato bene e che ha perso la partita perché l'ha voluto per tutta la scuola stessa, per la partita gli uomini di questo sabotaggio, soprattutto i primi due, sono Gabbett e Tadalusano che Tadalusano si è montata a testa perché dal rigore parato pensava che tutto andasse liscio Gabbia che non riesco a capire se è veramente un giocatore o ha bisogno soprattutto di essere messo nella strada giusta Milan è che in difesa veramente ha fatto un casino, ha fatto una confusione Milan è che deve soprattutto assolutamente risolvere questa situazione e sono sicuro che se c'era Tomori a posto di Gabbia, tutto questo non sarebbe successo un Milan è che abbiamo visto la reazione, abbiamo visto un primo tempo che ha tartassato la Fiorentina complimenti soprattutto per il gol di Saponara che è un altro che ci colpisce sempre come pagelle do tutto come inizio, salvo solo Chiar che do un 6 gli altri do tutti 5 meno, anche Teo Hernandez ha dato veramente un fastidio enorme quell'errore che ha regalato il gol del 4 a 2 a Vlaovic per diblare, per diblare sempre in questa schifo di difesa, per diblare sempre invece di diblare è di farti vedere se sono tutti in difesa, farti vedere in attacco provare di diblare in attacco, che almeno tenti di far gol e tenti di dare una mano alla squadra Ibrahim è eccellente pazzesco, mi è piaciuto troppo, gli do 7 ha fatto veramente due gol, si è fatto trovare sempre pronto altri due come Leao e Diaz do una sufficienza Selemè che si è visto poco e niente, 5 e mezzo centrocampo che ha un presto buono ma la difesa in questa partita è stranamente una difesa brutta ci avete fatto perdere una partita davvero semplice da giocare e semplice da ribaltare e vincere ci avete probabilmente, avete dato soprattutto gli strumenti esatti e necessari ai tifosi delle altre squadre che aspettavano questa sconfitta con la Juventus che vince 2 a 0 contro la Lazio e si vedono in Milan le perdono 4-3 contro la Fiorentina ora, oggi ci sarà l'Inter contro il Napoli che sicuramente sarà una grande partita e sarà una partita veramente equilibrata dove le due squadre andranno sicuramente a fare punteggio una classifica, se andiamo a vedere la classifica ti fa anche rodere un po', ti fa rodere veramente questa classifica perché a pari punti in questo momento c'è il Milan con il Napoli l'Inter se vince va a 28 punti e se va a meno 4 dal Milan ma in questo caso meglio l'Inter che vince contro il Napoli che il Napoli vince perché il Napoli se vince va a 35 il Milan a 32 abbiamo perso 3 punti che potrebbero essere davvero importanti in questa giornata di campionato fatemi sapere attraverso i commenti cosa ne pensate di questa azione io sono veramente deluso di questo Milan soprattutto per quanto riguarda la difesa e quanto riguarda soprattutto Pioli che in questa partita veramente ha sbagliato tanto ha sbagliato anche nei cambi ha fatto uscire Calulu che era importante sta giocando veramente benissimo partita veramente che fa veramente male e fa restare a noi tifosi rossoneri davvero tristi ci vediamo alla prossima ragazzi non voglio più parlare di questa partita sono veramente ammanaggiato soprattutto per quanto riguarda questa prestazione ci vediamo al prossimo video bella ragazzi